Faccio teorie Pokémon dal 2014, ho aperto questo canale del 5 maggio 2014 e uno dei primi format, uno dei primi format forse il più importante del mio canale forse quello che più lo caratterizzava era quello delle teorie teorie che al tempo non erano in realtà un format ben consolidato si confondevano con i misteri Pokémon, parlo di tempi ancestrali e questo è un video uncut nel caso non ve ne foste accorti teorie Pokémon che ho iniziato a portare io con costanza su YouTube non sono stato il primo, questo no, però sono stato sicuramente uno dei primi a puntare su questo format in un'epoca in cui andava ancora il Let's Play, il Let's Play tradizionale sono stato uno dei primi a puntare su quel tipo di intrattenimento e lo sto facendo tuttora, seppur con meno risultati una volta c'è stato un periodo ecco in cui sono state di moda c'è stato un periodo in cui non se ne filava nessuno e oggi ci sono gli spacchettamenti ormai non va più di moda parlare di Pokémon in maniera seria occorre farlo in maniera più casual se si vuole fare visual non è un dissing eh, per carità è un dato oggettivo oggi se vuoi diventare qualcuno col mondo Pokémon devi rispondere alle logiche del mercato sono rimasto indietro? con queste logiche del mercato? sì sono rimasto indietro con la passione? no, questo è quello che voglio fare questo è quello che mi è sempre piaciuto fare è quello che ho sempre trovato affascinante di questo brand il fatto che ci siano delle cose che magari in realtà a volte possono essere inventate però è un brand che ti dà lo spunto per pensare per pensare con la tua testa per fare congetture è una cosa meravigliosa secondo me di questo brand e alla faccia di chi mi ha sempre detto che copio Pokémon Millennium io ho iniziato prima di loro a fare teorie sono stato uno dei primi come ho già detto a portare le teorie ed è quello che da sempre ho fatto col brand Pokémon è quello che da sempre mi ha affascinato quel lato oscuro se vogliamo quel lato celato di Pokémon quel lato nascosto non quello che vediamo fuori dalle edicole o in tv e il titolo di questo video il titolo di questo video è emozionarsi con una teoria Pokémon perché io credo che nel momento in cui tu fai qualcosa per interesse genuino non è che come si fa adesso fai la teoria quando esce il trailer perché così il trailer te la spinge no no teorie per il gusto di farle perché ti piace il brand perché ti piace dare delle nuove chiavi di lettura di parti del brand che ti interessano sto facendo così tuttora non porto i risultati dal punto di vista del visual è ovvio chiaro evidente però però se fai le cose in maniera genuina come credo di farle io se ti interessi davvero a ciò che a ciò che ti interessi ed è una frase orribile da dire lo so ma se tu ti interessi davvero in senso materiale a quella che è la tua passione non puoi non emozionarti dopo la giornata di ieri non puoi signori non so quanto siate aggiornati penso abbastanza e scusatemi se ci ho messo tanto da arrivare al dunque ieri è uscita o comunque è stata liccata fra tante virgolette una restaurazione di una demo di pokemon verde con all'interno i pokemon ricavati dai back sprites ora le fonti non sono ufficiali nel senso che non è una vera e propria demo sono ufficiali i materiali che sono stati utilizzati per questa demo o almeno così ho capito e così sembra non fosse così e rimuovo il video non c'è problema questo è un video fuori scaletta e e tra questi back sprite che penso di lasciarvi in descrizione non so se oggi o domani nel prossimo video che parlerà sempre di questa cosa di un aspetto particolare c'era la terza la seconda scusatemi evoluzione di di cubon l'evoluzione di marowak e ragazzi io non so non ne ha parlato nessuno però o meglio non ho visto ancora nessuno parlarne però questo per me che sono nato con queste teorie su youtube che sono nato proprio come canale come come personaggio con questo mondo delle teorie quando ancora non le facevo io ma le prendevo da internet ecco è stata confermata penso la prima grande teoria proposta dal web è stato confermato quel legame tra marowak e kangaskan tra cubon e kangaskan ovviamente ci sono delle cose da precisare uscirà un concept analysis su questo pokemon l'ho già messo in programma non so quando fa l'uscire perché questo qua sarà un periodo di fuoco per il brand signori è la prima teoria dei fan che penso almeno che sia la prima che è confermata è confermato il collegamento che noi fan abbiamo ricavato e questo mi ha emozionato davvero perché perché allora non è vero non è vero come dicono tanti che ci facciamo delle pippe mentali che sono tutte inutili non è vero perché sei visto che in realtà ti abbiamo preso noi fan come tanti ti scrivono ti dicono ma se sei così intelligente a fare teorie tratto da una storia vera se sei così intelligente a fare teorie perché le sfrutti sui pokemon e non fai qualcosa di più serio beh per questo perché questo è quello che voglio fare perché non sono i soldi quelli che voglio fare non è il mercato quello che voglio seguire voglio seguire le mie passioni la mia passione è questo brand e questo vi dimostra che non è tempo buttato non sono parole al vento non sono semplici giochi intellettuali molte volte magari lo sono molte volte magari sono invenzioni molte volte sbagliamo quasi sempre mi verrebbe da dire però non lo so questo video vi ripeto è fuori scaletta non ha molto senso di esistere e infatti è uno dei classici video uncut però wow la prima teoria pokemon immaginate immaginate il ragazzo che anni e anni fa ha creato per la prima volta questa teoria dalla sua testa come potrebbe sentirsi oggi succedesse con me una cosa del genere capite io io mi immagino che domani game freak viene fuori e dice ah sì sì darmanitan è proprio ispirato a quello che ha detto creepy io io provo molta empatia per questo ragazzo che non conosco ma che è fan come me del mondo pokemon e che come me probabilmente è sempre stato etichettato come un fuori di testa un pazzo e wow a me è emozionato vedere quel marowak quella quella nuova forma di marowak guardia si chiama mi è emozionato perché vuol dire che che wow ci avevano preso e e non so l'ho trovata una cosa bella una cosa molto bella per i motivi che vi ho già detto quindi non non penso di dovermi dilungare oltre è stato è stato veramente un colpo al cuore quando l'ho vista scusatemi se non riesco a parlare però è tardi e quindi niente io non lo so penso che sia una cosa particolare del mio canale io davvero ho passato anni a portare misteri pokemon di questo tipo e a sentirmi dire che sono tutte stronzate capite vedere che non sono tutte stronzate è una rivincita vedere che comunque non stiamo sparando stronzate oddio molte volte sì però che non sempre spariamo stronzate non lo so mi ha fatto mi ha fatto salire un po' di orgoglio e mi ha emozionato perché pokemon emoziona sempre a prescindere è un brand particolare qualsiasi cosa succeda secondo me pokemon è in grado di emozionare io lo so che ho fatto un video in cui parlavo del fatto che non avevo nostalgia questa non è nostalgia questo è semplicemente un po' di riscatto ecco un po' di riscatto così lo chiamerei riscatto e soprattutto orgoglio nel vedere che la community pokemon che i fan non sono dei pazzi che si fanno pippe mentali addosso ma sono persone in grado di cavare fuori della verità dalle cose e quindi niente ripeto questo era un video uncut era un video abbastanza useless abbastanza inutile però magari vi è piaciuto quindi vi invito a lasciare un mi piace arriveranno dei video sulla beta di pokemon verde arriveranno dei video teorie arriverà un concept analysis e per ora basta anche perché secondo me la prossima generazione l'annunceranno tra poco ed è per questo che vi dico che questo secondo me sarà un periodo di fuoco per il brand detto ciò io mi sono levato anche qualche sassolino dalla scarpa quest'oggi continuerò a farlo perché ho deciso di intraprendere questa via ho deciso che quello che penso merita di essere detto al di là delle possibilità di andare contro fanbase di altri canali più grandi di me ho intenzione di fare un video in cui spiego una volta per tutte perché non l'ho mai fatto perché non copio pokemon millennium quindi tenetevi pronti prima o poi arriva e basta vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto scrivetemi nei commenti qualcosa qualche vostro parere iscrivetevi al canale ovviamente se non siete ancora iscritti premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed e passate dai social perché lì ho fatto i grandi post si li ho fatti anche in community ma lì ne ho fatti un po' di più ho dato più pareri quindi mi raccomando passate anche dai social e niente io vi saluto qua spero che questo video vi sia piaciuto e che condividiate tutto sommato quello che ho detto e noi ragazzi ci becchiamo domani spero con un prossimo video grazie a tutti